No no no, arrivo, va bene così Va bene così, Nieville 7 Nieville 7 Buonasera, tutto bene? Tutto bene, beh, io minchia c'ho un malo da cervicale oggi Allora, welcome back easy, welcome back Allora, avevamo buildato... Ooh baby, what's the plan? Allora Avevamo fatto le cose di livello 2, giusto? In alcuni punti, mi pare Quindi avevo un po' di production Guarda come production, guardala come corrono, cazzo Guarda che roba Whee! Perfetto, ci piace E qui cosa sto producendo? Cosa sto facendo? I portatili? Cos'è sta roba? Lamiere in ferro rinforzata Ok, perché stavo facendo queste? Io devo fare l'ascensore Mi sono nei lamiere in ferro normali Wow Lamiere in ferro, lamiere in ferro rinforzata Allora, rubiamoci un po' di lamiere in ferro Just in case Niente, non riescono a stoccarsi Ce le dobbiamo fottere da qui? Minchia, aspetta Quante ne ho nell'inventario? Un cazzo Sì, me le devo fottere Ogni volta che start a sto gioco Bisogna un gigare cap E minchia, non è facile Ricordarsi tutto qua Tu, tu, ti, du, ti, du Ma quando ti garantiscono Che ha una DSL? Eh, raga Ma secondo me O stanno facendo qualche lavoro A livello italiano? Perché mi sembra strano che sia Ormai è quasi due settimane Che Team ovunque Un giorno qua, un giorno là Sta dando problemi, eh Cioè Alla fine Io cos'è? Quattro anni che ho la fibra Quattro anni è qualcosa Non mi posso lamentare Ha avuto dei problemi Ma ci sta alla fine I problemi ci sono sempre Cioè, capitano Però mai come il suo periodo Comunque è vero Con i filter Poi è un gioco nuovo Eh sì, raga Senza filter È la morte Allora, lamiere Ce ne servono 150 160 Ne abbiamo 90 Sì, che non finisco più Però così Vabbè, vediamo un attimo A te Team Eh, non so Va Va probabilmente Magari qui da me Stanno facendo qualche lavoro E quindi da quei problemi lì Eh, faccio problema Craftarmi Ne vaffanculo Ah, ne servono 105 Ah no A parte che si sta aggiornando Quindi vaffanculo Devo rifare anche i lingozzi Che palle Siamo ancora qui A fare la roba a mano Regà Ogni volta diciamo Ormai abbiamo automatizzato Tutto Ma si finisce sempre Al banco a craftare Come i poveri Come i poveri Eh, qua vicino Qualche lavoro Lo stanno facendo Quindi magari anche quello Eh, però vabbè In realtà non credo Che sia un problema mio Perché anche in chat Leggo spesso gente Che cristona contro Team Nel suo periodo Bongo Team Bongo Team Ah, barre di ferro Il filo Il calcestruzzo Ah, il calcestruzzo Ce l'abbiamo sicuro Ciao Flavie A te ogni ora si risettava Adesso sembra andare Eh, vedi A me la mattina Spesso La mattina Non va down Eh, però mi Mi cade la connessione Per dieci minuti E torna Quasi tutte le mattine Ormai Allora Mi serve Mi serve Killing in the name of Uh Troppo ne ho preso Direi assolutamente troppo Minchia, raga È arrivato 9 Sto toccando il rame Non il ferro Porca puttana Che serata di merda Ciao 9 Tutto bene? Porca troia I can't get no Satisfactory Bella e less Thank you Se cade continuamente Perché non le insegna A camminare Dobbiamo fare un raduno Figa Chiude in una stanza 4-5 persone E ne vediamo cosa esce fuori Che bella questa automatizzazione Hai visto Esprit? Ho automatizzato il mio indice Sono diventato una macchina Ma secondo me il discorso Il problema è adesso all'inizio Dove praticamente Usi a manetta La roba che crafti Perché una volta che poi Tu produci E non crafti più come un pazzo La roba inizia a bancarla Nei cosi Nei dipot E quindi lì Sei tranquillo Il problema è che Noi adesso non faccio in tempo A mettere in coda una roba Che me ne serve un'altra Ti ho visto esplodere Nell'altro giorno Eh sì Esprit Dicevo prima Sto avendo un po' di problemini Con team Ah Mille e cinque fini Mi servono ancora un po' di lamiere Calcestor se ce l'abbiamo Le barre forse ce le abbiamo Ciao Kainu Un bella blood Mille e cinquecento fini Che cazzo ti devo dire Me ne mancano duecento E devo rifare qualcosa Che ho smontato L'altro giorno Infatti tra l'altro Se l'ho smontato Scusami Aspetta Ma non è che Quando l'ho smontato Mi è rimasta giù la valigia Perché magari era Un botto di maz No eh Io l'avevo buildato qui Perché ora che mi viene il dubbio Non è che c'è qua sotto Una valigia Che ci sono tutti i maz Di quel robo là Eh non mi ricordo Dove ero Quando l'ho smontato Scitteroni Ti divertirei a fare Le ramiere rinforzate Ma ce le ho lì Che si stanno facendo Quelle Ma teoricamente Stasera dobbiamo pensare A un modo Per automatizzare bene L'energia Che però L'altro giorno Mi avete fatto un mezzo spoiler Mi ha detto Vai avanti E scoprirai Un metodo di energia nuovo Quindi andiamo un po' avanti E Ripeto Secondo me Lo sclero momentaneo È che Devo continuamente Buildare robe diverse Cioè faccio le lamiere Ok Le metto in coda Faccio i macchinari e tutto Però poi mi servono le barre Quindi Passerà Passerà Ok Allora Giù il rame Vediamo di recuperare Le barre di ferro Me ne servono a 140 Vedi già queste Stanno bancando Ut Perché ne fa così tante Scusami Perché ne piglio 100 Ce ne sono già altre 100 fatte What Ah ma che cazzone Che sono Mi sto spostando Le mie dal mio inventario No 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 Mi sto spostando Le mie dal mio inventario Minchia Che mother noob Sì 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 Eh no Vedi anche queste qui Allora non le sto stoccando Per niente Scusami Quelle dentro Dove le vedo? Ah le vedo come Le mette comunque Insieme a quelle del mio inventario Che merda Eh sì Sì vedi Per prenderle Devo fare così Eh però Anche queste qui Faccio prima A craftarmene Se mi servono così fast Pensavo No 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 Pensavo di aver Togigaglitch Pensavo di Non riuscire a capire Allora Finiamo le lamiere Questo perché Non fai un dipot No perché Avevo provato Anche a facendo Il dipot Ma vado Cioè comunque La roba viene Viene consumata subito Non riesco a bancare Quindi non mi cambia niente Ok queste fatte Barre di ferro Eh mi serve Altro metal Era 1-1 Il rapporto Mi pare di sì Quindi mi serve 120 di metal 100 ci arrubbiamo Da qui Ah però Vedi che qui Riesco a fottermele Eh sì Ok da qua Ah sì Da quello delle vittime Le sono Inchiuppate Easy Clapperino E quindi Manca solo il calcestruzzo Che dovremmo avercelo qua Quello invece Guarda che bravi Et poi là Abbiamo usato Scenzori Spaziale Dai Ascensori Spaziale Non fare lo stronzo Dai non fare lo stronzo Spaziale Oh merda Lo facciamo giù di là Ah no Minchia mi mancano Le barre di ferro Fanculo Mi mancavano 17 barre di ferro Ecco perché Fuck Cos'è sta caverna? Oh cazzo C'è un mondo sotto casa E non lo sapevo Ah per curarsi Ok Ma effettivamente Non ci sono creature ostili A parte quei merdini Che abbiamo trovato Vabbè Diciamo che ce ne è tanti qua Non vorrei scendere E non riuscire più a risalire Ecco là Lasciamole perdere Per ora Ok Sappiamo che abbiamo Una cave sotto casa Con le cure Very good Very very good Very 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 good Very 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 good Allora Quindi 17 barre Go Voi là Scensore spaziale Ah vedi E lo metterei Tipo là Non vicinissimo Ma neanche troppo lontano Tanto a questo Mi pare che non gli devo Collegare un cazzo Eh Tutti i miei craft Che volano Allora Assemblaggio progetto Carica le risorse Ok Qua gli devo mettere Le lamiere intelligenti Completamente progetto Uno Fai partire La scena 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 Ah no Io gli devo Mettere Due per minuto Stai buono Stai Ok Allora Fatto che Vedi Sto macchinero Qui Non spiega Che cazzo Bisogna fare Cioè vedo Solo questo Componente progetto Uno Fai partire La scena La scena La scena Per completare Le fasi Di assemblaggio Del progetto Ne devo fare 50 Quindi devo Metterli dentro Non so come Dove le metto Ah aveva i buchi Forse Eh no Però vedi Stato caricando Le risorse Vedi Load Poi posso Chiudere E spedire Non so come Caricarle Vabbè mi servono Quindi 50 Rotori Questo è Che cazzo Sono Sono le lamiere Normali Ah li devi Mandare dentro Per forza Col carrello Le metti Sull'icona No non me le mette Le puoi mettere Anche a mano Qui non sono queste Sono quelle rinforzate No carrello Che carrello Dovevo prendere il carrello All'entrata Non c'ho Le euro Devi fare 50 Intelligenti No credo che Quelle intelligenti Le crafta lui Cioè credo che Lui deva mettere Le due cose Lì sotto E lui fa Quelle intelligenti No Devo farle io Ah devo farle io Ok Guarda che era qui Orca puttana Porca Ecco dove L'avevamo smontato Vabbè Tanto serviranno Sempre Allora Vediamo Se le posso Fare a mano Intanto qui Mi ha detto Che mi ha sbloccato No Al mam Il mam È questo Oh cozzo Ah è vero Oddio Le ricerche Qui Risorse Insufficienti Risorse Insufficienti Eh non ho mai Risorse Per ricercare Un cazzo No Ricerchiamo Questo Eh no Devo iniziare Una nuova Analisi Tessuto Cazzo Proprietà Mediche Nutrienti Scelta Nutrizionale Hai già ricercato Le lumache Mi pare che avevamo Ricercato Le lumache Base Allora Qui posso Scansione Lumache Due minuti Ci mette Overclocking Della produzione Mio Mio Cazzo Figa Mi overclocko Tutto La faccio Esplodere Sta base Allora Vediamo se ho Quel coso Lì Niente Overclockato È finita La benza Chiamatemi Blink Please Chiamatemi Blink Mi serve Della No A parte che Che riesco a sbagliare È l'unico gioco Con l'inventario tuo A destra E quello A sinistra Ma che cazzo Allora 122 Lì 100 Qua 100 Qua E 100 Qua Eh sì Immaginavo Che l'overclock Mi usasse Più energia Però vedi Allora Quelle robe Di da craftare Non le posso Fare io a mano Quindi mi sa Che c'è bisogno Di farle Col macchinario Minchia Che sbatta Col macchinario Questo è l'assemblatore Sì Lamiere intelligente E gli servono i rotori E le lamiere rinforzate No Minchia Infattibile Aspetta Bella C'è i pegoi 17 E il coltello con gli 11 Mi sa che mi ti sono bevuto Thank you Gianni Perché i mats Ce li ho un po' Cioè io ne devo fare 50 Me ne saranno 100 E 100 praticamente Quindi i mats Ce li ho anche per farli La prossima lamiera Che mi fa uscire Gentilmente Le fai a mano In che senso E no Devo comunque usare Un assemblatore Cioè mi buildo Un assemblatore a caso Piuttosto E via Sì Forse è meglio Cioè ne buildo Una roba qua Al volo E poi la stacco Produzione Produzione Assemblatore Scusami Io gli posso mettere Dentro la roba A mano Ok 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 Devo prendere 8 lamiere rinforzate E 4 rotori Ancora E poi basta E poi basta che gli metto Un dipot qua davanti Tu 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 really really porca puttana no niente bella barbara di 33 welcome back thank you che vita di merda raga che vita di merda yo violin with the 41 thank you thank you how you doing good to see you e allora mettiamola più avanti a vaffanculo ok allora poi tiriamo il cavo della corrente va bene sì lo so che potevo rifare il dipot no non mi ricordo quanti erano vabbè intanto lo faccio produrre poi li aggiungo li sta facendo immagino vero vero che li stai facendo vero ehi ehi hello hello dai non ci sto dentro con la corrente mo oh metapino oh l'ho messo storto cazzo ok dove lo attacchiamo mi serve un palo cioè sono tutti attaccati allo stesso palo questi ma che bastardi oh ok 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 qualcosa per vedere i mazzini fondamenti uno alla volta no no va bene per adesso vado vado assolutamente vanilla eh vediamo se riusciamo a fare al volissimo era questo dimmi che ce ne ho un po' 60 va bene meglio di niente meglio di niente I'm fine I'm fine I'm going crazy with this game ok allora quindi ce la fai please secondo me mi sa che è anche il coso che ricerca che quattro rotore e sei otto barri grazie mi piace guarda che belle ok 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 quindi vabbè allora mettiamo giù intanto qui il rame anche i fili che non mi servono qui metto giù i lingotti questi le barre le viti you're going crazy with valley i dropped it after like a week because it was too slow it's a good game but it's way too slow in certain features way way too slow copriamo della legna bello no dai dai direi che sto finendo la benzina minchia che vita di merda grazie Alvin dai give me the benzina no è di là dov'è che si faceva la benna qui perché la biomassa non biomassa porca puttana fammi la biomassa ora fai come in gioventù vai di sega go hai mangiato la stracciatella il gelato questo lo ghettiamo qui quanto mi dura 4 di benza su sta roba non lo so lo scopriremo lo scopriremo ah la mozzarella shit ah dicevo che adesso i vali alzano il livello di sconto del boss ormai penso ormai puntino tutto sulla cop e si a sto punto se se lo rendono più hard ha senso farlo in cop se lo rendono più hard ha senso farlo in cop però vabbè ripeto in realtà per tante cose è ripetitivo non è un brutto gioco eh non è fatto male però credo che abbiano voluto un po' tirar lunga la frittata ragazzi oggi dopo lo stream mi ha chiesto un altro prestito di alcune cose su pattofixile ho fatto un txt ho scritto le cose che mi deve un txt pesa 16 mega quel txt txt da 16 mega quando lo apro quando lo apro la cpu mi va in overload sto scherzando ok dai possiamo andare a droppare sta roba per fare benze e poi mi devo ricordare di riempire la la motosega certo che cazzo ho costruito un fottuto missile c'è un robo non so cosa cazzo è con robo ma ho costruito quello non riesco a costruire tipo una una mega terribiatrice che mi tira giù tutta la foresta no c'è pure il bonsai nella linea di produzione perché qui siamo fermi che cazzo è il momento della pausa porca puttana ringraziate che andate a correnti altrimenti vi licenziavo allora qui mettiamo il legname e va bene ok qui mettiamo l'erba ok e si fa la benna questa ne usa in base a quanta ne ho nell'inventario vero se me la devo tenere all'inventario e via va bene però per adesso per adesso questa roba qui siamo a posto allora cosa devo fare mi servivano 50 di queste avete finito quindi se minchia con calma questa questa proprio con calma ok quindi 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 qui avrà finito la ricerca questa specie di lumaca sembra mettere una l'efficina dell'assemblaggio del progetto ah vedi cosa ho fatto cioè devo arrivare al 100% regà e una volta che arrivo al 100% mi sblocca qualcosa 50-50-50 c'è modo di prendere ok eh che merda 50 bella bella bix con i 31 welcome beccherino la scansione delle lumache però vedi qui già mi chiede una cosa che non so cosa sia quella lì al centro c'è quella lì a sinistra sembra una pianta però non si capisce c'era una lumaca sulla collina dove hai tagliato gli alberi quella roba lì ok ah era una lumaca quella roba lì ok 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 vaffanculo 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 con lo scanner a prendere le lumache eh eh non ce l'ho non posso mi aveva detto che mi aveva sbloccato la nuova scansione ma lo zolfo forse sì bella mo procede bene dai stiamo andando avanti adesso sto oh shit fuck you bitches mother trucker ma poi ma che cazzo ma un'arma migliore non ce l'avrò mai io andrò sempre in giro con sto merdino figa mi ha rotto il culo mi ha distrutto cazzo ok do 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 in versione ti ricorda quello di Dying Light a proposito di Dying Light mi sa che a breve raga ci ragniamo Dead Island l'altro giorno per caso su youtube sono finito su un video che aveva sotto la canzone di Dead Island e mi è venuta voglia di ammazzare zombie who do you voodoo bitch who do you voodoo bitch non è tipo vecchissimo è abbastanza vecchio sì però è figo però è figo magari facendo l'incope esatto lo facciamo con il randolo ah no scherzavo randolone non vorrei mai di venisse un colpo stavo scherzando non corro randolone ma lo sa ma se ogni mattina mi sveglio e la prima cosa che gli chiedo è randol come stai mentre gli altri mod buonissimi se ne fottono quando deve fare l'altra operazione settimana prossima credo ogni mattina prendo la prima cosa che chiedo è randol come stai? e la seconda è oggi finalmente hai controllato se ti hai la resub automatica? perché ogni giorno mi dice dopo controllo dopo controllo dopo controllo non controlla mai non controlla mai sto stronzo ok allora per un po' siamo a posto con la benna direi dobbiamo aspettare quelli ah posso fare la biomassa anche con quei cazzilli lì ok posso fare il frammento energetico che non mi dice cosa fa comunque non ho mai compreso un frammento e metto una strada d'energia tassi di produzione 7.5 al minuto bravo blood ok giocatore migliorato ok 12 tu ricercato 60% ricompense frammento energetico risorse insufficienti cosa mi manca i 100 cavi ok who do you who do bitch ut ce l'avevi ah no sono con i riforzati no no ciao CB mi c'è ok allora rumache energetiche lumache energetica gialla ah è un'altra non è quella che ho io what the fuck is la lumache energetica gialla andiamo a cercare la lumache energetica gialla raga tutto ok male ma non malissimo male ma non malissimo beh di notte le vediamo se sbrilluccicano come quelle verdi non le diresti mai ma è come quella di prima però gialla eh ma tipo quella è una lumaca raga o è un glitch no è una lumaca mi sa ah minchia non capivo cos'era qualcosa enorme che si muoveva era il zio carlos arato cazzo hai capito arato stronzo fottuto alieno mastordo questo è il mio pianeta adesso hai capito hai capito o no ah ah scusate devo sfogarmi non ti buttare Simba non farlo Simba no a me non sembra gialla non è che quella là era gialla raga no è sempre verde vero gialla quella è fottutamente gialla come minchia salgo lì c'è pure il veleno dance game mi devo buildare una rampa eh mi sa di si tranquilli raga nooo non ho calcestruzzo cazzo ok dobbiamo salire legit eh mi sa che non c'è modo di salire legit il gioco vuole che io faccia come ho fatto no la vita scende troppo fast per provare a rushare no 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 secondo me anche col carrellino non ce la faccio vediamo se ce ne sono ah il lumache verde è pieno cioè nel senso il lumache verde le trovi il problema sono le gialle voodoo you voodoo bitch sputacchiamento cosa è sputacchiamento? mi stava sputazzando la lumaca oh forse l'ha un'altra gialla forse si minchia dall'altra parte del mondo dai buttati giù arrivo cazzo piccola stronza arrivo nooo non arrivo minchia ringrazia che non c'ho il calcestruzzo esco sempre con i sacchi addosso esco sempre con i sacchi di calcestruzzo li ho lasciati negli altri jeans ok non è come sei tutto buggato bravo muori questo cos'è? minchia che incornata che mi ha dato arato mi ha rotto o no quando ripano oh questo rame vabbè ma non me ne frega un cazzo di prenderlo non posso prendere quel fiore di me c'è una lumaca lì no e vabbè torniamo a casa recuperiamo la roba e facciamo facciamo una scala ciao Ale beh c'è da dire che con quello non ti perdi raga oh cazzo si mi serve un'arma ranged dai potrò fare una pistolina laser qualche puttanata anche solo lo spara chiodica lo spara viti c'è un milione di viti sparo le viti cazzo non è che la lumaca dietro all'ascensore è gialla l'ascensore è quello che ho fatto io ah quella che era sulla collina allora mi sembrava eh però da lontano non si capiva adesso vediamo che giustamente essendo dietro quello non l'avevo vista da qua c'è una bella zero adesso faccio il bfg cazzo no è verde cazzo è fuochi in verde bella cronico no la corrente figa la senti che va via anche se sei lontano no stanno andando i macchinari è il rumore della lumaca no in chi mi sono pure spappolato che vita di merda vieni qua cazzo che non ti ho ucciso a te ah no lo posso coccolare ma è un cane coccolo coccolo si ho panciato in su bravo che ti faccio i grattini bravo non vuole più giocare ehi eh si è addormentato mi sa eh si e chiaramente vedete l'occhio l'occhio quanti cazzo di occhi ha vai via mostro cazzo stai qui decomponiti poi ancora ma si gli attacco un'etichetta lo vendo a 19,90 allora eeeh perché qua è tutto fermo ah no vedi che era finita la benza queste sono accese no ah è saltata come è possibile raga che faccio quindi per domani che cosa nuva ma è impossibile che cioè non ho buildato niente frammento energetico comunque l'umago di energia è compresa in un frammento cosa ne mette una storia di energia ah se gli metto questo forse aaaaa siccome si diventa per rifare l'impianto assolutamente nuova tranquillo grazie di 22 ah perché tu dici uno ha finito la benza può essere vediamo 27 26 27 no ah questo che l'ho messa prima ok facciamo così almeno la finiscono tutti insieme poi bravo johnny ok qui nel momento si sta producendo no dammi due stack di questo facciamo tre per sicurezza e andiamo a ricoprire sta minchia di rumaca gialla mmm buone queste noci mmm 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 fra il rumore di quando sgranocchi è stra buono cioè mi viene voglia di morderle crea il bioscanner lo posso craftare che teoricamente mi rileva effettivamente prima mi ha letto nuove cose di ricerca pronte cioè come se potessi scannerizzare roba nuova ma in realtà non posso scannerizzare un cazzo fanvide fanvide se lo posso fare tipo qui rilevatore di oggetti cosa rileva questo il radiofaro cazzo è il radiofaro e vedi però è una merda che non ti dice cosa servono un frammento energetico no non non ho nessun diciamo sono il rilevatore di oggetti ma usa il radiofaro ah dovrei fare tre radiofari e facciamo questi tre radiofari mi servono i cavi e 50 viti che non avrò mai qua e invece ok come si usa ut ah ricerca lumache energetiche eh ma se io volessi le lumache perché perché non mi da ah perché non le ho ancora prese mi sa che devo prendere una lumaca normale e poi worka ok tu 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 Io ho scusato un po' di latenza Ok, là c'è la lumaca gialla Là c'è la lumaca gialla Oh raga, ieri che non andava a team Sono comunque riuscito a fare watch party Ci siamo visti per chi c'era Ci siamo visti fottutamente la storia infinita De Italian Job E pure i Griffin Cioè, Seratona ieri Seratona What? Iago? Abbassati, abbassati Johnny Si, 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 si Si, vuoi andare a appoggiarsi su quel fiore, vero? Buono quel fiore Porca puttana, tira un po' Uh, vieni qui Eh, non posso fare niente però Cioè, di stermino e basta Ah, porca puttana, vabbè Uccidere per il gusto di farlo su un altro pianeta Fatto Fatto Magari ti serviva vivo Ma sicuramente avrà fatto le uova, raga Sarà pieno di uova qui in giro Sono tipici animali che depongono centinaia di uova al minuto Eh, ma dobbiamo andare a prendere questa giga velenosa Piuttosto andiamo a prenderci l'altra Che... Ah no, però l'altra minchia Faccio fatica a bestia perché c'è il... Porca troia Ma non è che posso spaccare sti cosi? Perché mi sa che sono questi che generano... No Sì, sì, ho capito, ho capito Non è finita la lumaca? Ok, no Presto, presto Cirippo, 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 cirippo Uh, al pelo Ok, bella, Billot Ma quindi adesso tipo con lo scanner di oggetti posso trovare le lumache? No, ok, non posso ancora Va bene, abbiamo una lumaca gialla però per fare quel cazzo che dovevamo fare Anche se siamo praticamente morti Siamo praticamente dead Mangia che buono, mangia che buono E via Ma non è un citti il carrello Non hanno fatto una scala portatile su sto gioco Porca puttana, ringrazio che non so fare un fucile Se no, mamma mia, come ti impallinavo E non ti lasciavo stordito Prima di morire, cazzo Ti facevo soffrire, ti facevo i buchi sulle zampe, cazzo E ti lasciavo lì appeso What? Dai, veramente Ma che vita di merda Loot Ah, sarò qui tanto non è implementato Che non ci serve Eh, devo trovare un modo per salire anche da sto lato, raga Per non perdere le ore ogni volta Non è che veramente che faccio anche lì un container con la salitina e vaffanculo No, non ci sono le scale, non esistono Allora Lumaca energetica Boom Cosa sono quelle lì? Ne ho 21 Sono quelle normali? Rinforzate Vado? Ne prendo un attimo da qui Te le rimetto subito Ma dai Quattro fili Sei fili di merda Ok Analisi completata Analisi 26 Una nuova analisi Ok E giustamente mi ha usato la mia lumaca Con una lumaca rosa Energia viola Frammento energetico Però mi ha dato un frammento energetico come reward No Ha detto che come ricompensa mi dava un frammento energetico Ma ha scammato Ok Ah Devo comprare nel negozio Insomma è vero anche quello dobbiamo fare Regà mi ha scammato Mi ha detto che se facevo sta ricerca mi dava come ricompensa le frammento energetico Ma ce l'avevo già la risaip Ah no ne ho due diversi Ah ok che lo posso fare con la verde Vabbè facciamo questo frammento energetico che vediamo come worka Secondo me io lo metto qua dentro E questo cosa produce di più ora Ah vedi è l'overclocking No Ne puoi mettere fino a E' colpa di questo? No non è colpa di questo Sai che è finita la benzo da qualche parte Allora 100 100 Allora fai 200 200 Non ce la facciamo Di poco ma va bene Almeno le carico per un po' Allora fammi vedere Allora così La produzione è qua Produco 83 Da 83 a 110 Se li metto questo Non cambia un cazzo Così produce di più Produce di più e consuma di più però Credo di sì Sì infatti qui è salito Ok 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 C'è scritto su obiettivo MV E quanto produce praticamente Ok va bene Dobbiamo fare il Allora intanto dobbiamo vedere questo come è messo Ah no devo metterli dentro le lamiere I'm sorry Ok Dobbiamo fare il Il trasmutatore Awesome Che ci manca Minchia Devo andare a prendere Basta Non conviene metterlo sul macchinario che produce Sì Credo di sì Qui perché è tutto fermo Eh l'u No no sta facendo Eh non ho craftato un altro Se no potevo provare a buttarlo qua dentro No Rely A me lo credo Anche questo qua è gigante Che palle Ok E abbiamo anche quest'altro Il negozio Awesome Da fare Allora Questo qui È il trasmutatore Awesome Energia assente Quindi devo anche collegarlo alla corrente Pure la corrente Vuole Hai capito Anche quello? No Ah Putti La prossima Cupon stampabile Di zero Eh Non posso fare niente Ah qui posso sbloccare Pareti Con i coupon Gli accessori Supporti Da parete Accessori Da parete Ipertubi Pacchetto Rampe Pacchetto di rampe doppie Il pilastro Rampe invertite Il muletto Il para Oh La scala pioli Regà Mica Questa roba qui Importantissima Le statue Per i veri nerd Radiofari La tazza del caffè Biocarburante Biomassa Cavie Ah qui puoi comprare i materiali Con i Ma come faccio a fare i A fare questi coupon Ci butti dentro la roba Eh no Ci ho provato infatti A buttare dentro un materiale a caso Ah col nastro Ah si cazzo C'è qualcosa che conviene buttare dentro Regà Beh credo che forse il calcestruzzo sia la roba che Produco manetta e non uso così tanto Vediamo dai Dai che non tocchi Ma cos'è che hitbox di merda c'ha quel macchinario lì Dai ma sarai bastardo dentro Perché no Perché ho finito No mamma Ok Vediamo giusto come worka Più i materiali sono pregiati più valgono Ascolta, il calcestruzzo è pregiatissima Cioè Mi butto anch'io La tazza è OP Allora, vediamo Ah, vabbè, dai Scusami, ognuno di questi quanto calcestruzzo c'è? Uno Dai Com'è possibile? E' quel macchinario di merda lì Tranquilli, overclocchiamo un po' Overclocchiamo un pelo E siamo giusto sopra Guarda, 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 guarda che roba No, mi è scliccato, I'm sorry Buonasera, quella è la cosa più bella di questo gioco che ti piace è maltrattare la fauna Arrivare su un pianeta tranquillo così e maltrattare la fauna Credo che sia veramente rilassante Notte, Blood Ma chi ci crede che vai a dormire alle 11, Blood? Cioè Ma scrivi che vai a fare altro Blood, ma ci hai preso tutti per coglioni Eh, Blood? Che stronzo Allora 50 ne devo fare Go! Go! Seal Ah, io credo che adesso la sparo tipo nello spazio, raga Cos'è quel coso lunghissimo di Metal? Infinito What? Ah, mi sa che è veramente un ascensore spaziale, raga Non lancia niente, porta su Ok Ok, ok Ok, carica le risorse Ah, adesso devo mettere Oh, cosa? Ok, quello credo che sia abbastanza advanced Mi ispira di roba advanced Noi In cambio cosa ti chiamano? Teoricamente dovrei avere dei tire di robi nuovi qua ora No, scusa, il computerino Quello cazzo era? Quello qua? Esatto, abbiamo livello 3 e livello 4 Energia carbone Oh, generatore a carbone Brucia a carbone Ma non ce l'ho a carbone Estrattore d'acqua Ah, brucia a carbone per bollire l'acqua Il vapore è prodotto Un'altra potenza di elettricità Per l'arretrie Un'altra potenza di elettricità E una condotta Ingrima A postenso automatizzato Ok Velocità Permette Un'alzamento verticale Del liquido Di 10 metri Estrattore l'acqua Nello specchio d'acqua dove si trova Non abbiamo visto acqua, credo Condotto MK1 In una direzione trasporta per 300 metri cubi di liquido al minuto Ah, questi sono i tubi dell'acqua Collegamento per le condotte, ok Aggiunzione Può essere applicata ad un tubo per applicare una spinta Può essere applicata ad un tubo per applicare una spinta Permette ai fluidi di essere trasportati per 20 metri in altezza Un buffer di liquidi, ok Mignoramento di carbone, ti permette di scansare nell'aria e ricerca di carbone Vabbè, allora sicuramente come prima cosa tu No, ho sbagliato Fermo Tu, non tu Tu Non energia, energia carbonone Ah no, in generale Ah ok, è vero, è vero, è vero Ok, così faccio tutto Allora, mi riferisco rinforzata Cavi I cavi ce li abbiamo, il resto è un po' un problema Sì sì sì, era un po' che non li facciavamo Me l'ho scordato come workava Ah, i cavi li abbiamo finiti Vabbè, quelli sono il meno da fare Sto robocco qui sto producendo ancora Ma in realtà mi serve E me ne serve di più, cazzo Ah, facciamo i cosi C'è bisogno di overclockare qua raga C'è bisogno di overclockare Ok Soltata la corrente Giustamente Che tu coglioni Appena, appena gli ho dato il biribiri bi Di quanto? Neanche di tantissimo Allora, se questo è l'overclocko al massimo E overclockiamo anche questa E poi abbiamo finito gli overclock Teoricamente siamo a posto Come no Ne affaccio, veramente Ah, che povertà C'è l'overclock Della Lidl Cos'è? No, mettiamolo 8.4 Qui teoricamente adesso un paio di ticket ce li avrò Energia assente, vaffanculo Ma come? Non è possibile, raga Ma porca puttana Vacca impestata Non è questo che tipo consuma? Ti ha preferivo? Ok E' una roba lì che consuma di brutto Cosa c'entrava il nastro? Ehi, volevo fare fasta A delettare il tutto Poi lo rifaccio Dammi i miei ticket Abbiamo tre coupon, raga Go! Guarda che bello Ok Adesso vado un attimo per collocare quello che abbiamo spazio Di manovra Arriviamo Dai, vediamo se non riusciamo a tenere la cannone Perché non va? Perché qua dietro fai schifo Perché fai schifo? Perché sei fottutamente lento E' te che ti devo boostare Mi serve una lumaca, raga Mi serve una lumaca da mettere qui Ormai basta Sono preso dall'overclocking Come cerco la lumaca? La lumaca La lumaca Cosa di oggetti La cosa di Ghostbusters L'hai finito? Lumaca, lumaca Come autofrange Non c'è antenna a tirare? Autofrange Cioè, è tutto autofrange Fammi capire E come faccio a capire dov'è però? Ah minchia Ok, ok Funziona solo vicino Vabbè minchia Da vicino le vedo anch'io Cazzo Sono sbrellucicanti Esatto Tipo il radar cerca sfere di drago Eccola! Dove sei lumaca? L'umaca Ma non la trovi, raga Eccola Eccola, ci siamo Vedo delle ondine Si è spinta Cazzo C'erano le ondine piccoline Oh cazzo Bellale con i nove mesi Thank you, thank you Welcome back Oh cazzo C'è un mob che mi spara le fireball Dietro Se la bippa, raga Se la bippa di brutto Non bippa più Eccola Go Beh fa cagare però dai Cioè non dico che Le trova a range visivo Ma quasi Incomodo questo Dai cazzo Ah Ah Affanculo E niente Dai Anche la torre la vince Chi la dura La vince Beppe Ci siamo Ci siamo Cazzo Dai Ah Guarda che gioco bastardo Si ho capito Non c'è bisogno che bipi Devo salire Mamma mia Fottiti Dove minchia è finito Dove minchia è finito Mia E via E che cazzo C'è un'altra Bella cosmo Non ho guardato ma credo che si Fosse verde Prima che ne trovate è stato un culo assurdo Ma no è che nell'altra zona Cioè adesso guarda Torno nell'altra zona Che non ci sono 12 milioni di piante E l'altra zona Era assolutamente Verso casa Che si trova Questo mi sta rompendo il culo Che volo a fare Ok Ah ma la segna sulla bussola Easy clap Di giro ci sono anche delle navicelle Schiacciate Schiacciate Sì Schiantate con gli HD Ok Ancora non l'ho trovato niente Vabbè ma Esplorare non l'abbiamo esplorato Praticamente un cazzo Avete provato la demo di Outriders Not yet Not yet Qual è che è uscita? Sostimesce primo aprile Ok Vabbè Vabbè Aspettiamo Visto che manca poco Intendi Gears of Borderlands È più o meno Esatto È un po' ispirato Però non sembra malissimo Dai gliela diamo Una chance Una chance Gliela diamo A quel gioco lì Allora Facciamo sto boosterino E lo buttiamo dentro Una roba lì Delle cose Che non so perché sia così lenta Ora però vabbè Deal with it Deal with it La sfida della community Regà Boostate lo stream Usate i vostri glotto points Boostate lo stream Ades l'hai mai giocato? No non mi piace Ades No Gionni ma si pronuncia Eidis Fa cagare comunque Esatto Così finiamo in un page Per i turchi Che affascinati Dalla tecnologia Arrivano Vediamo Dimmi che non cade Va bene Spingiamolo Spingiamolo al limite Oh baby Guarda come produce Cazzo Ma tu fai cagare No a me proprio non piace Proprio a me quel gioco lì Non piace C'è poco da fare A proposito di Sfida della community Regà Visto che siete stati Tanto bravi Con i post su telegram Dicevo Su telegram sì Su instagram eccetera Dicevo oggi pomeriggio Ci hanno offerto Un altro stream Sponsored Settimana A marzo A marzo E Sarà un Giochino free Che tutti voi conoscete Che Non so perché Non l'ho mai fatto Che come dicevo Lo voleva fare Brunello E Secondo me ci finite sotto Questo gioco Ho un po' di paura Non ve lo dico Però è un gioco gratis Dove Dove dovrete anche lì Scaricarlo Solito E E arrivare a sbloccare Una roba Che però Mi hanno detto Che per la lo faccio per lui per salvargli la vita avete capito per salvargli il cazzo di vita minchia se lo riesco a uccidere tutto buggato dove vai? vieni qua little bitch no 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 scapparà dall'altra parte scapparà dall'altra parte braccobaldo dai ma morirà sto cosa secondo voi? a questo punto figa tutte scosse ti do ma ce l'ha sempre avuta la zampetta così molle? shit vediamo subito con la nvidia 210 lo reggi il gioco? non lo so ma tanto mancavata ti compri la scheda video nuova no? si credo di si guarda che bello sembrano due persone che corrono una di fianco all'altra adesso oh mi piace qui così bravissimo nice dai quanto ci metto a ucciderlo raga ma è mortale non è vero che si può uccidere dai avete mentito cioè servirà qualche arma più forte ma va cioè come tentare di uccidere un orso con la racchetta per le zanzare raga ah si può fare? ok ci saremo quasi allora per forza ah perché non reagiscono però muore solo che con l'arma che c'è adesso ci fanno tanti colpi ok vabbè gli abbiamo già dati un botto quindi teoricamente ma non si cura che cazzo è? un chierico ti sembra un chierico cazzo è morto sembro io nel letto quando faccio i sogni brutti ma non ha troppato niente ma ragazzi credo di aver avuto un'allucinazione ero convinto di avermi seguito per 5 minuti un enorme testicolo alto 20-30 piani ed averlo ucciso mi sono sognato tutto oh shit va bene va bene va bene no comunque quel gioco di sarà un gioco dove credo che possiamo giocare anche in multiplayer insieme per arrivare a sbloccare questa cosa quindi ci faremo delle grosse risate secondo me poi sicuramente tra di voi c'è qualche professionista perché se non free to play c'è qualcuno di voi ci avrà nerdato sicuro ciao gatto argomento della serata quanti svegli usate la mattina per svegliarvi nessuna perché mi piacerebbe dormire cosa che però non succede io ormai sono settimane che vado a dormire alle 5 le 6 e mi sveglio esattamente due ore dopo ogni fottuto giorno ogni fottutissimo giorno perché qua sto facendo i fini no di qua devo andare ogni fottutissimo giorno allora qui stiamo facendo ma andare a letto prima se vado a letto prima mi sveglio prima non riesco a dormire più di due ore dormo due ore e mi sveglio al pomeriggio riesco a dormire qualcosa di più soprattutto tipo oggi che ho fatto lo stream vabbè però neanche qualcosa di più ho dormito due ore cioè abbiamo quitato lo stream ho dormito due ore fino alle 7 sì se per caso un vampiro probabilmente starò morendo oh abbiamo i ticket raga ma io vorrei dormire oh a voglia se vorrei dormire porca troia però no cioè proprio mi sveglio non riesco più a dormire abbiamo una scala componenti a caso beh cazzo però no c'è qualcosa di importante da comprare qua raga ma noi potevamo prendere l'estato come mi conosci Semel come mi conosci tu non mi conosci nessuno Semel chiamasi disturbo del sonno eh io me lo ripromesso che non avrei mai più fumato dopo che diventavo papà se no quello è il modo migliore per dormire bene allora botta in testa e via però raga non vedo niente di utile voi mi avete detto prendi lì tu dormi fisso dieci ore più pisolina no magari cazzo no raga cos'è che dovevo comprare qua avete detto c'è una roba utile il carrail e il muletto cazzo faccio Sanji Simulator che sono le statue che costano infinito la tazza no per carità che dormire di più non vuol dire essere più riposati però raga cioè mi rendo conto anch'io che non sono felice di aver dormito solo due ore io dormo cinque ore insomma ma cinque ore va benissimo sei vero cinque ore sono quelle che ho sempre dormito per tutta la vita io mai provato una nut prima di dormire cos'è una nut ho paura perché ho fatto questa domanda Johnny fai da quattro anni sto lavoro perché chiedi mi servono 150 50 e 300 cavi no aspetta 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 cazzata 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 ok allora qui adesso sta producendo ste robe qui che non ce ne frega un cazzo quindi buttiamo i rotori di là non sai cos'è la nut no non so cos'è la nut hai il mestiere del falegname cretini no per cosa sta nut a sto punto raga fa male non dormire a meno 5 6 eh lo so tut ma io cosa ci posso fare mi sveglio se provo a girarmi non mi riaddormento 150 come arriva 150 di sti cosi con sta merda qui che non produce produci cazzo a nut vuol dire venire what cazzo conosco una persona che si chiama Natasha si fa chiamare Natti non potrò più guardarla in faccia si lo so che è tua cugina era una battuta rimane sempre in famiglia che bigottismo allora ehm ehm eh 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 venta il medico scusi sono magari stress magari sono sì no secondo me è stress secondo me è stress magari passa sempre per il problema fisco d'orecchio no fisco d'orecchio c'è ma non è quello il problema che non riesco a dormire allora fermi fatemi ponderare ah 26 mi servono altri 24 di questi quelli sono a posto e quelli sono a posto quindi non mi servono più le griglie mi servono questi switch switch rotore quindi qua dietro devo fargli produrre barre di ferro produzione barre di ferro che teoricamente noi dovremmo averle già da qualche altra parte delle barre di ferro qua giusto e le carichiamo un po' qua in modo che le trasporta più fast e più un centinaio gliele butto dritto dentro nella macchina che da bustata ora produrrà come un pazzo proprio cioè la velocità della luce roba supersonica proprio guarda lì e deve fare solo 50 quanto ci mette a farne uno 7 secondi vabbè dai 5 minuti le fa hai mai provato a prendere sonno mentre guardi il tuo streamer preferito mentre ascolto si no no ma non ho problemi ad addormentarmi eh no come al minuto c'era scritto ne faceva uno in 8 secondi oh ah no giusto si hai provato con l'oppio sicuramente così dormi ok allora questo fatto questo fatto che che ha tolto la corrente bella Carrot con i due anni thank you thank you thank you thank you 2 omega years allora no 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 sto sbagliando sto sbagliando con la valeriana cazzo ma ripeto il problema non è addormentarmi perché ho provato a prendere tipo la camomilla quella con la melatonina eccetera e dormire ma addormento che palle devo riuscire devo prendere una volta la prossima volta che si scaricano devo svuotarle tutte riempirle tutte uguali in modo che eh vedi perché queste ce ne hanno ancora dentro fanculo io mi addormento sempre guardando te infatti lunedì sera non riesco a dormire tu pensa tu pensa cioè ti faccio addormentare tutte le sere e per te valgo solo 5 euro al mese ti sembra normale trovala una stronza che ti canta la ninna nanna ogni fottuto giorno 6 giorni su 7 e volendo anche il giorno che non c'è c'è la replica se te la vai a cercare chiede vedi quanto vuole ma è nai alla buzz aspetta vediamo quant'è sono stato a un workshop del sonno cos'è un workshop del sonno dai ne mancano solo 10 cosa minchia è un workshop del sonno ti canta la ninna nanna si mettono tutti in cerchio uno al centro e inizia a cantare ninna na ninna o questi bimbi a chi li do no 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 a un seminario in italiano le spiegavamo come funziona il sonno ok eh non lo so spero di di fixare a breve perché sarà un mese ormai che va avanti cioè che dormo poco poco la notte un paio di settiane però che ho problemi un mese ormai why we sleep è un bel libro per capire gli effetti del sonno io lo so benissimo che come si dice che fa bene dormire mi sono ripromesso che non l'avrei mai più fatto dopo che avevo una figlia Pietro lo so anch'io che non fa male c'è nel senso what perché c'erano que porca di quella porca 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 guarda quelli non li toglierò mai ho il tavolo bloccato come faccio a prendere quelli guardate che devo giocare il giocomo yeah lavorare in campagna con la zappa per decine di ore è vero quello sicuramente aiuterebbe arriva cannabis terapetica per l'ansia ne mancano tre che rimuovi il rullo come siete ok last one lo prendo al volo regalo ultimo con la pinzetta no 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 niente va bene go bell'indovino boom energia carbone we did it miles unreached ok prima cosa quindi andiamo a cercare il coal bene indovino i 33 va bene oh carbone carbone ok minchia mi ero spaventato raga la madonna un chilometro pelanda e andrei comunque in questa zona che mi sembra più safe di quella tanto per cento metri sei sempre yorsh e lo so gianni però finché non ti chiami cioè non cambi il nome ti chiamo york cioè ti chiamo indovino della big c così ti ricordi che sei un po' stronzo ogni volta che ti nomino figa ma un chilometro cioè tipo adesso quanto abbiamo fatto curiosità uto ma perché non me lo trova bella miz con l'anno vabbè settecento me minchia il bello che adesso devo andare poi devo tornare a casa e tirare i cavi per prendere la roba per tirare i cavi che non credo di avercela eh che minchia così tanto carrello ne richiede di roba perché dovevo scannare due volte il carbone raga al primo non me lo prende infatti per scrivere benza di azipine qualche anno fa non lo facevo non lo metto scrivato non riuscivo a dormire due ore qualche anno poi mi hanno prescritto dell'exota ne prendevo qualche goccia al serno non riuscivo a dormire la cosa è passata poi mi ero fatto legato all'ansia finita all'uni non ho più avuto problemi e va bene quando smetterò di fare sto lavoro allora tornerò a dormire 200 metri bitches animali che ringhiano burrone vabbè oh shit charge mi rigenero non nemmeno ho perso la roba nell'inventario lo carico no no ho perso tutto dai mi è pure rimasto bloccato il menu che ho scritto riprendi la partita eh riapro raga ho pigiato esc mentre che sono ripato ah posso andarmelo a riprendere la mia roba molli il loot dove muori e se sono caduto giù il loot è rimasto in alto o è finito giù vorrei impossibile vabbè fai niente tanto non è che avevamo tanta roba no fuck ah che culo ok easy clap easy clap il gioco mi aveva salvato esattamente prima di fare questo easy clap hey cheater regano non è stata colpa mia io ho dovuto quittare perché mi si era buggata l'HOD allora aspetta però facciamo una roba a carbone io dovrò portarmi la roba per fare una trivella credo perché a questo punto è vero non c'è inutile fare due viaggi trivella mi serve quindi la trivellina e basta ok per i nastri invece mi servono micchia devo fare infiniti di sti cosi qui ma proprio infiniti ma qui sta facendo le barre non ce n'è uno di questi che banca materiali qui fa le barre che diventano viti e vedi non ho non ne ho uno che mi sta facendo qui le barre diventano viti e ho bancato un po' di barre non ho quello che mi sta facendo le piastre regà perché sto facendo barre ovunque ma guarda che ho un container mi sta pieno di viti qui ah no ah no è vero perché le viti sono doppie perché mi usava un miliardo di viti quindi ho dovuto doppiare le viti esatto era questo che faceva il coso posso mandare a fanculo questo di viti rirallentiamo un po' il il coso qui che non è un problema qua gli metto a fare le lamiere di ferro la nostra fantastica curva no è anche meglio almeno non ho più quella merda lì ok così banca la roba e mi vado a smontare anche il boost da qui ok che tanto si rallenta non è un problema e mi boosto questo what ma perché c'è barra su barra what the fuck perché ho due di sti cosi in serie mi sa che abbiamo fatto casino l'altra volta quando a fine così ah è vero per le viti è vero è vero perché uno faceva le barre l'altro faceva le viti avete ragione allora mettiamo questo dimmi di che non esplode la corrente dovrebbe tenere facciamone giù un po' noi a mano intanto così intanto tiriamo quello che si può tutututututututu e vedi però adesso pensandoci bene la cosa migliore sarebbe rifare ancora la base però non lo farò e mettere quelli che smeltano che vanno tutti nei magazzini con i boost in modo che la roba si stocca nei magazzini anzi forse lo posso comunque fare senza rebuildare tutto c'è tipo tutti quei cosi dove io macchinario magazzino macchinario dove il magazzino è sempre tipo qui che questo qua è sempre vuoto no ok questo qui è quello del metal è pieno ah no li ho tolti tutti eh sì vabbè sti cazzi go ma chissà perché devo scannare due volte il metal il carbone il carbone ah il fatto che dobbiamo anche trovare il carbone di fianco all'acqua ha detto la tipa sempre pieno di meta I love meta na 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 posso ho mischiato due canzoni senza forse ci metto un po' perché è lontano strano perché la pazienza è la mia prima dote non capisco come sia possibile oh baby we found the water allora chat pronti con i voti oh cazzo tuffo in assenza di frame anche look at this aspetta aspetta c'è anche il momento in cui riesci se riesco a uscire hello hello oh cazzo non riesco più a uscire raga vabbè non puoi notare verticalmente ok tu cosa sei zolfo non me ne frega un cazzo zolfo minchia ah c'è la strada ok 180 metri cioè voi ci pensate che io devo fare un cavo lungo da qua a là oh che bella però sta zona cazzo sono anche dei brufoli enormi andiamogli a scoppiare cazzo cristo mi sono spaventato oh ma mi ara sto mob voglio luttare un cosa di questo e non posso provo a swingarlo provo a motosegarlo non c'ho benzina ma vada via al culo ma non si deve aprire ok dove cazzo è sto carbone scusa è 30 metri oh cazzo oh cazzo c'è tipo una caverna sotto credo no 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 teveran dite che è buggato perché effettivamente qui non vedo entrate di caverna a meno che da tutt'altra parte non fare un cavo lunghissimo no 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 voglio fare il cavo lunghissimo temati cazzo muori arato organi alieni è questo yeah per buono è normale non è che magari lo trovo puro no figurati se lo trovo subito puro va bene allora qui imbindiamo la trivella bisogna vedere quanto deve essere vicina all'acqua però vabbè credo che quanto è grosso ok allora allora logistica energia produzione trivella ok mi devo fermare sempre quando dice troppo lungo e la corrente ce la devo portare dopo raga intanto devo fare tutta sta cosa qua che ripeto non mi basterà neanche il metal credo però nel mentre si sta facendo a casa vediamo presto presto ma se fai qua la corrente no non mi piace fare così voglio portare qua la corrente dal mio coso aspetta però è vero raga fermi se io fa si però qui ci sono i mob minchia se mi uccide questo uscita è vero è vero effettivamente mi conviene fare direttamente la corrente qui e portare di là la corrente con i pali è vero non ci ho pensato che il carbone mi servirà solo a questo ma al che vado vengo a prendermi il carbone ok allora quindi abbiamo lì la trivella e il problema è che però se faccio mi sa che per avviare il tutto devo fare una perché esempio se io volessi fare qui il generatore a carbone vabbè no però effettivamente un po' di carbone a mano lo posso raccogliere eh dove minchia lo vado a mettere ce la fai ah no perché mi mancano i rotori fanculo però mi piaceva l'idea della mia ganazza del trasportatore è vero c'è più che altro avevo la la fabbrica a casa no fanculo regà dai facciamo una mega cosa voglio tutto di là voglio vedere tutte le mie costruzioni lasciatemi esprimere devo portare pure l'acqua come fai e non c'erano i tubi dell'acqua anche non c'erano anche i tubi d'acqua regà che ho sbloccato eh e allora come alimenti la trivella con con i pali della corrente che porto qui ah adesso vado in là buildando sta roba qui torno in qui buildando i pali che vabbè quelli un attimo farli eh che doggione io le faccio rimasto male se n'è andata regà che già ha doggiato una palla di fuoco ok 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 abbiamo finito il metal eh esatto ragazzi sono certo che ci sono sicuramente metodi cento volte migliori perché ha già giocato però fatemelo fare come secondo me può essere good poi dopo che lo faccio dico ah ho fatto una stronzata cazzo vabbè quando lo rifacciamo faccio così bongo tap bongo tap tuuri tuutu 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 allora Dignelo, Tisca! Cioè, guardate che bello! Cioè, adesso... Poi ognuno ha le proprie preferenze nei videogiochi, ma di quello che vedete qui... Qual è la cosa più bella? Pensatela dalla visione di uno che vive in Lombardia, vicino a Milano. Qual è la cosa più bella di ciò che vediamo? Guarda che Promete ho capito. Le fabbriche! Il fumo! Il fumo nero, cazzo! Simbolo del lavoro! Il fumo! Il simbolo del lavoro, cazzo! Ed è il progresso! Il maxipene sulla destra, vedo un pene enorme. Allora... Sai che è finita la benza qua? No, no, sta andando tutto. Ci serve, dai, dimmi che ne hai fatto un casino. Almeno tipo 400. Oh, la madonna, go! Mi ha fatto un botto! Allora, aspetta, fammi lasciare giù la calcestruzzo. Qui no, mi serve anche la calcestruzzo, però non così tanta. Ciao, Tricchi! I cavi della corrente invece di cosa hanno bisogno? Ok, dovrei riuscire a fare tutto. Quindi adesso torniamo in là con i cavi e ritorniamo in qui col carrello. Mi serve un posto dove attaccarmi. And meet me tonight in Atlantic City. Tu sei prescelto! Tu sei prescelto! Ok. Stiamo andando giusti, vero? Nella nord è più o meno la direzione. Prima che vado a banana. Ma c'è un cazzo di cascata lì! No, Johnny, dobbiamo fare altro. Allo? Ok, di lì. Eh, ci siamo un attimo allargati, va bene. No, Johnny, non mi rompi i coglioni. Dai, c'ho da fare. Mi sa che questi non mi mollano, vero? Figa, buildo scappando. Via! Shit. Shit, 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 shit. No, mi sono... No! Dai! Sì, serio! What the fuck? Ma dai, vatela a pigliare nel culo! Ma che cazzo! Dai! Oh, io ci ho giocato 975474 ore in beta, alfa, pre-beta e close ed early access. Non mi è mai successo niente di tutto ciò. È sicuramente colpa del modo in cui i giochi. Sente veramente, veramente inguardabile. Dai! Dai, chi era il stronzo che lo dice? Perché ogni volta che mi baggo in un gioco è colpa mia, cazzo. Tranquilli, basta seguire il filo. Spero che ci sia un tastino che mi luta tutto, raga. Ah no, mi segna anche la cassa del mio lutto, ok. C'erano tre mob lì e stanno andando ancora con tre attacchi di vita. Guarda che mi ha bustato il mob! I ain't pussy! Ok. finchè se li frullo, se li vedo ok ah, l'autostrada del sole qua sotto credo che facciamo, ah no, dovrei iettarmi in acqua ma non è una cosa smart a meno che io non riesca a fare una roba del genere guarda che roba adesso c'entrerò l'acqua da qui, vero, vero, vero cazzo inchia, secondo me potrei aver colpito sotto però va bene it's ok guys, we're doing extremely fine, extremely fine quindi ok l'ho collegata abbiamo scorrente solo a me che dimostra che sembrano dei grossi culi no a me sembrano degli enormi testicoli non so che culo tuo abbia Ginnart onestamente però non mi stupisco di nulla dopo aver visto il tuo tappetino del mouse sei invidioso nel mio tappetino no la pompa nell'acqua che serve oh shit andata via la corrente a casino la pompa nell'acqua lo scopriremo a breve a cosa serve Christian Henderson si ma che possono arrivare a 2000 all'ora cioè che cazzo ma sono gli stessi due di prima guarda che è volato giù mi sa di sì è finito hello ah è lì facchio vieni qua bastardo scoccio mi gatano le fai dove sei? finchia se si muovono fast ah devo staccare ah ah è vero cazzo si è staccata la cosa perché bravo Johnny eh però devo comunque riattivare tutto da là ah basta staccare sto cavo no questo cavo no perché faccio fatica devo spaccare un palo c'è realtà non un palo un filo ok è vero è vero non ci ho pensato che appena l'ho attaccata quella è iniziata ad andare e non bastava la corrente dai come troppo inclinato faccela bravissimo bella Andrew con i 15 thank you thank you welcome back bella Che bella che è la musica di questo gioco Come faccio? Ma che bella che è Bella lei Cazzo non lo vedo Merda Ho fatto una cacata Eccolo là invece Eh minchia io dovrei Come faccio raga? Troppo inclinato Eh vedi dovrebbe farmelo Buildare una roba Tipo così Ma come è troppo inclinato? Non è troppo inclinato Dai Anche perché scusa Poi lo alzerei C'è il naso che sale e che scende Sì ma non voglio usare quello Adesso ho fottuto il sistema Ma come è troppo inclinato? Non è possibile Ho sbagliato a farlo lì allora Perché vedi C'è anche questo è troppo inclinato Non è troppo inclinato È troppo lungo Ma come fa a essere troppo inclinato Che è dritto raga Ma è assurdo Come l'ho messo al contrario? Finga se ci riesco In un modo o nell'altro Porca di quella puttana Il gioco non mi conosce Non so che posso mettere I nasi verticali Ma non lo farò Fai niente Fai niente che al contrario raga No mi sa che devo tornare su La cosa migliore Allora posso fare una roba più smart Forse lo faccio passare da qui Oh ma montagne ovunque Alberi ovunque È vaffanculo Adesso vanno a ritrovare Dov'è? Eccola qua Allora Cosa cazzo era? Un merdoso ragno Minchia Questo mi sembra Godalike Beh la besta con i 21 Thank you thank you Oh cazzo I did the bitch Okay Look at this Ahia Ok ci siamo Ah non lo vedo Non lo vedo Non lo vedo Dai Ok We are on it bitches We are on it bitches Ok Ok giusto qua Nella parte centrale Che non c'è niente Ok Eh devo riattaccare la corrente Cazzo 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 Fast Forse è peggio di così Mi piace Per la manina produttiva Come siete Te o Allora Allora Ok Che è il K200 Almeno Questo giro Li fullo tutti E vaffanculo Ok 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 quindi qua Siamo a posto Fammi mettere L'erbetta qua Ho del legname 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 Erbetta Erbetta Allora La corrente c'è C'è solo un cavo Da tirare Qui noi abbiamo Il cavo Che porterà il carbone Che l'hanno rubato Ok E dobbiamo attaccarli Quindi Un generatore a carbone Che mi costa Dieci rotori Andiamo a prenderli Eh esatto Maverick È saltata Per la benza Perfetto È stato semplice Prenderne Dieci Ok Abbiamo tutto Quanto sei grosso? Abbastanza grosso Devo dire Dov'è l'ingresso? Qua Ce lo sapevo Cazzo Ce lo sapevo Ah no Giusto Che culo No Fuck Ok Ok Quindi teoricamente Se aspettiamo Luke Ediz È vero che si è portato Si è portato in avanti Il coso Guarda qua Già arrivato È già arrivato Ora questa Basta che lo attacco Qui È teoricamente È la mia produzione elettrica Se questo coso Già con sto carbone Va Sta producendo? Sì Credo No No Ah no No acqua Dovrei fare la stessa roba Con i tubi? Allora va bene Logistica Condotto MK1 Ah Ah Direzione T'ho spunto fino a 300 Acqua al minuto Ok Quindi va bene Per questo mi servono I fogli di rame Che dovrei Averne Aiosa No No Ok E invece Per fare la pompa Altri due rotori Ok Mi serve uno slot Buttiamo via Sti 22 di carbone Producere l'acqua E che cazzo sono Gesù Cristo? Non ce l'ho l'acqua qui Ma due ne voglio Cazzo E non le ha presi Ma ti odio Oh Bella C-Kan con i 20 Quella pompa serve a forzare Ah è quella che dava la spinta E qual è la pompa Che pompa proprio Ho potuto produzione Estrattore d'acqua Ok bravi Ah minchia Altri 10 Va bene Però abbiamo tutto Se non fai più di una pompa Chi mi ha preso Ok abbiamo tutto Dai Abbiamo tutto Possiamo tornare di là E valutare Il da farsi Shit No Vivo Perché non sta arrivando Il carbone Chat Ah perché la trivella Non sta trivellando Giusto Quel poco che c'era E quello che Ma niente Sai che non so Se ci passo qua Oh cazzo No Non avevi staccato Un cavolo alla corrente Sì ma Non c'entra niente Quello Mi do uno slot Per nutrirmi Baramba ciccicocco Buttiamo via Questi 21 Lamiere di ferro Minchia Mi andava di buttare Le lamiere di ferro Butto piuttosto 78 cavi Che sono pieno Fai bene I calcoli Dell'acqua Adesso vediamo Adesso vediamo Ho visto un video Di un tipo Che si è buildato Una casa nel nulla E ha fatto I tubi dell'acqua Con il bambù Io posso fare di meglio Su questo gioco Ma lo sento Seguono i reali Regole dei fluidi Ne sono più che certo Ora vediamo Come glitcharlo Mi sa che c'è lo spawn Qua eh Visti merda Eh vabbè Minchia Ma questi sono godlike Fammi capire Cioè a volte Prendono e ti guardano A volte ti chain charge Invece Fai la spada C'è la spada E mi servirebbe Un'arma decente Regale Perché quella cosa Lì è veramente Una merda È veramente Una murda Sì la spada Adesso La prossima volta Che torniamo a casa Guardo Ma provo a stare largo E vediamo Aiutami Gianni Proteggimi Devo ancora sbloccare Ok Non spoilerate Allora Dai Guarda che merda Questo Eh tua sorella Guarda che muoio Di full damage No Ma sono vita full Non capisco Ah no Il caccio Era a zero Preciso Ok Ci siamo Ok Very good 1 HP Man Strikes again Eh Minchia Qui c'è il mob Che spara Ma non voglio La motose No No Regale Ho perso L'arma Non me l'ha Lutata Ah Dobbiamo rifare Eh si è rimasta La nella scatola Che tra l'altro Non me la segna No me la segna Ancora in realtà La posso riprendere Facciamo sta pompa Per l'acqua Intanto Estrattore d'acqua Ok Anche questo Andrà attaccato Alla corrente Immagino si Voilà E poi ci dobbiamo Mettere Gli tubi Gli tubi Gli tubi Gli tubi Logistica Ma Non c'è un modo Regà Un tasso da schiacciare Per dirgli Dritto Cioè tipo così Però manualmente Cioè per dirgli Non fare la curva Cioè non c'è un tasso Che se lo tengo premuto Gli forzo Gli forzo Il fatto di non fare la curva No te schizzo Darmi bene Prova con R Trasportatore Trasportatore 2D Verticale Predefinito Cosa vuol dire What the fuck No forse verticale Quello più avvezzo Al mio modo di giocare È una cosa Stiti che basta Sì No è vero Se non cambia un cazzo Vabbè sti cazzi Ah Seguiamo questa cosa qui Con i tubi E via Come fare la stessa strada Che abbiamo fatto Con la roba Però mi pare che questo Sia più semplice Mi pare che questo Sia più semplice Da buildare Se sei troppo Devi interporre delle pompe Altrimenti non arriva l'acqua E vabbè Intanto faccio i tubi Poi vedo se l'acqua si blocca Gli metto le pompe Credo Devo attaccare la trivella Ogni ventimento Devi fare delle pompe Ma non credo che sia Veramente ogni venti metri Regà Non mi aggrare Tua sorella Sì sì Non so che devo costruire Il cavo che ho tolto In realtà quella Credo che sia collegata Sì L'avevo attaccata La corrente Devo solo rifare Questo cavo qui Eh sì Ventimento di dislivello Verticale Chiaro Qual'era quella Che ho staccato Era Sul costone Mi ricordo Dovrebbe essere questa Con questa Adesso basta vedere Basta buttare l'occhio Se inizia a passare il carbone C'è un indicatore Che ti dice fino a dove Spinge l'acqua Ma me lo dice Una volta che l'ho buildata Tutta giusto Cioè una volta che c'è L'acqua Che gli passa A parte che teoricamente Potrebbe essere Che la pompa Sta funzionando Allora Sì vedo che sta girando La pala dentro Vediamo Bravo Bravo andiamo andiamo shitteroni ok va bene va bene è troppo lungo oh guarda che l'acqua da meno problemi cazzo ah qui che spinta che prenderà l'acqua ah qui sicuramente poi dovrò fare la roba ma come è troppo lungo dai fai bravo oh collegata easy clap allora quindi ora c'è solo da andare a vedere come faccio a sapere se sta arrivando l'acqua vabbè basta che shit come spingere con sta motosega in mano ci sono tre anelli vicini clicca sull'aggiunzione del tubo sta per di sta roba vedete il flash mode è quando tiri l'acqua del water se la fai girare a sinistra se la fai girare a destra che fa flash quando è flash se l'è il flash mode ce li ho ce li ho tana la leva scarica ah scarica l'indietro allora andiamo a vedere dov'è l'acqua acqua zero pare che sia vuota quanto è veloce a muoversi l'acqua l'acqua sarà più veloce del resto credo quantità attuale in condotte 36 perché di qua ce n'era 36 ho letto male 67 36 ah zero su ok perché il tubo è lungo tot e il massimo che ok in base alla lunghezza del tubo ti dice quant'acqua ci sta può essere necro no dai simo positivi lumaca tuffarsi con una motosega in mano fatto si ma il carbone eeeh adesso valutiamo un attimo raga come siete ah vediamo se l'acqua qui nei tubi c'è forse questo si questo tubo qui è pieno già qui è vuoto questo è pieno quindi vuol dire che io qui devo buildare una pompa il tubo potrebbe fare una punta per essere attaccato cioè la pompa tipo la posso mettere anche qui Ah no, 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 così pompa nella parte sbagliata Teoricamente così spinge l'acqua di là? No Sì? Sì! Ok Però in realtà non sta funzionando, regà Però si è riempita Ok Ho capito anch'io che va collegata alla corrente, regà Però il tubo si è riempito È un miracolo di Natale, esatto È entrata la coppia della pompa e sta pompando di brutto Allora come arriva? Ci mette un po', però arriva No, ok, qua si ferma Ma torna proprio indietro? No, non credo Per me il tubo è pieno No, ok, va attaccata Un cavo, please Ok, il carbone sta arrivando Ok Ora teoricamente dovrebbero pompare come se non ci fossero domani Senti il rumore della pompa che pompa Che non pompa un cazzo, non pompa Ah, come si Sono levato Ah, portata massima a 300 metri Ah, così l'ho svuotato, ok Eh no, ma vedi, i tubi si sono tipo svuotati Qui è pieno Cosa vuol dire rete di tubi completa, segmento di tubo? Ah, ok, no, che svuoto tutti i tubi Capito? Ho messo la pompa qua al contrario? Mamma che culo Chi è che ha fatto un buco nella mappa, regà? La roba da non credere, oh Roba da non credere Allora, voi dite che ha il contrario alla tomba La tomba, la pompa Bella l'attacchia con i 29 Welcome back Thank you Allora La mettiamo che spinge di là Oh, guarda come pompa, mo In realtà però non pompa come vorrei Perché forse va messa nel tubo prima, immagino Va messa nel tubo Perché non è pieno sto tubo? Oh Merda, non c'ho corrente qua Uh, che culo Ok Sì, no, va messa nel tubo prima Quindi Toriganita adesso quella spinge Ah no, che cazzone Che non ho riattaccato questa la corrente Ehm E il fatto che mi serve un palo Mi serve un fottuto palo Eccolo là, lo vedo, lo vedo, lo vedo Ce la faccio, ce la faccio in salto, raga Ok Perfetto Dai, dimmi che ci arriva, almeno qui Fai la brava Ehm Guarda come spigne Eh, giustamente non riesco a capire quanto Però non mi dice quanto è lungo il tubo, vero o no Ah, vediamo Io provo a attaccarla al tubo Dove va spinta, che non è pieno Voglio vedere se si riempie Così capisco definitivamente se va attaccata prima o dopo Però secondo me è prima Già avrebbe senso Dove minchia è il palo? Palo Ma come... Ho messo un palo qui Eccolo qua Vaffanculo non cadere No, invece sul tubo dove c'è l'acqua che è poca Cioè non serve metterla prima Perché in realtà la tira Devi aspettare di usarla per vedere se regge Ah, ok Vabbè, intanto vediamo La pressione è mai alta Cioè credo che l'importante è che sia questa Che credo sia la pressione Che sia manetta Che credo sia la pressione teoricamente adesso qui dovrebbe arrivare tutta l'acqua porca puttana eh dobbiamo attaccare un'altra roba di corrente nel mentre ah credo che una dovrebbe bastare perché comunque devo giusto sopperire a queste pompe che sto mettendo eh lo strema era letto pompe ma 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 lo strema era letto pompe dai passaci oh questa cazzi motosega in mano fatemi ceccare un secondo la spada raga eh no vedi che non ce l'ho non ho armi ma non ho ancora armi utili ok dai che culo che c'ho già tutto per farla non tu ma tu ok finchè si è già ciuccetta la corrente la motosega qua ok ut perché non c'è il ah perché non è collegata murda murda dai che lo trovo un palo libero bravo blender be light go tu 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 oh baby nooo non è che c'è già l'acqua non credo no vedi qua non è ancora arrivata no perché l'ultima pompa ha bloccato tutto quindi ovviamente arriva qua neanche possibile what hello perché? ah perché è riscesa ok allora facciamo una roba questa qui la tolgo da qui e la metto qui dovrebbe forse essere addirittura meglio e questo si riempirà fra 5 4 3 2 1 1 hello oh shit va qua sta tornando indietro raga va qua sta tornando indietro adesso devi per forza tornare su oh guarda là e dai è tutta una questione di pompe raga devi farle bene se non le fai bene non funzionano le cose ma va ma va ma va dai ma va beh oh è dire che in Italia funziona così da una vita ma ovunque dai porca di quella puttana legia vacca pelanda strategica del vaffanculo oh perché non sale? perché si sta riempiendo ancora questo? no è pieno devo mettere un'altra pompa qua mettiamo un'altra pompa qui chi è che sclero l'acqua? ma sta scendendo addirittura ma perché torna indietro? no 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 torna su torna su torna su e adesso torna indietro devo mettere un'altra pompa qui io ne metto un'altra metto le pompe in serie ma non funziona ma com'è possibile? ma c'ho le pompe che non pompano guarda no niente com'è al contrario? ma no che non è al contrario no lo vedi perché spinge dalla parte dove ha il coso verticale dove c'è l'antennina dite che è perché è troppo lì è ripida? proviamo a fare il tubo meno ripido ah 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 aspetta la parte dove c'è troppo lì ah però la pompa fa quel lavoro lì quando funziona bene credo ah infatti questa non sta pompando ah vedi vedi ok è dato un acqua in scivolo cosa mi devo dire sto provando fatevi gli acquari vostri non ho capito guardala guarda guarda che ce la fa adesso noi mettiamo una pompina qui così l'attacchiamo alla corrente là guarda guarda come va su ma che roba guarda 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 lì adesso dovrebbe iniziare a sbattacchiare anche questa guarda eh un attimino devi mettere una centrale in più per tutte queste pompe sì papozzo anche secondo me no vedi che non cioè va ma non sta pompando più di tanto forse non serve guarda qui come va ma che roba è qui in disceso quindi i problemi non dovrebbero essercene basta secondo me è fatta raga forse nella parte finale va bene mollu ah ragazzi l'abbiamo fatta oh ma porca di quella troia oh teoricamente sta producendo sì guarda easy capacità 275 raga oh ah però me ne servono altre non me ne basta una perché dobbiamo eliminare le altre quindi facciamo così e proviamo a vedere cosa succede ne build un'altra bella dark con i 25 welcome back aspetta una di queste quanto produce eh 75 una di quelle merdose quanto fa 30 quindi una di questa bustata produce come 3 di quelle no cazzo come 5 di quelle 6 vabbè comunque più di 2 io quante ne ho raga 6 in tutto 2 4 6 quindi devo fare 3 con 3 vado in surplus che è quello che mi serve ciao bella no sto palo di merda uh che culo che non è attaccato niente ut perchè no perchè non me la fa buildare ah perchè non ho le cose ok no dai sto facendo ancora i rotori che palle produzione a me le rinforzate produzione a me le rinforzate la mera di ferro ok no buono questa roba perchè cazzo ci sono le lamiere in mezzo anche i tubi what cosa sta facendo perchè sta consegnando i tubi ah perchè sono nella cosa di stock cazzo si no 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 non ho messo a fare due cose ah no a meno che ah si e perchè ho il eh devo svuotarmi l'inventario un attimo mi svuoto l'inventario fixo eh perchè sennò mi blocca tutto infatti prendilo niente devo giocarlo come prima ok ok fuck you ok fixato fixato in realtà meno la corrente per le mille mila no 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 era già calcolata ah beh tu dici no però era già calcolata nel costo del tutto quindi ci sta fammi mettere giù sti cosi qui va bene bella già a me con i 25 al super sub l'ho bisogno di welcome back fatemi bere ciao ragazzi allora vediamo quante ne servono 10 20 dai porca troia io a mano queste non le posso fare vero no eh gli ho tolto il boost purtroppo no invece ce l'ha what the fuck mister most maverick con l'anno e logan con i 28 grazie per il supporto signorini welcome back dai arriviamo alla cifra tonda stasera con la cifra tonda molto poco tonda però meno 27 mancano 27 sabberini alla cifra tonda quindi fuori Twitch Prime pigiate il tastino abbonati se l'avete già fatto con i primi ricordati con i metodi avete ripicciato il tastino perché non si rinnova in automatico check the prime please don't be a bitch poi se volete essere delle bitch per me non c'è nessun problema ma io vi consiglio di non essere bitch poi fate vobis ecco là ecco là Joker col prime Rain con i 25 mesi avete triggerato l'hyp train molto male perché adesso c'è quell'altra cosa se l'hyp train viene triggerato per le regole anti covid bisogna arrivare al livello 5 altrimenti il covid spredda e noi non vogliamo spredare il covid che cazzo cioè io non voglio assolutamente non posso nemmeno dissociarmi perché essendo che il canale è mio guardate in che situazione mi avete messo ora l'unico modo è arrivare al livello 5 no age la regala gp bookseller last shadow con i cheer lo storto che la regala a beatrice welcome oh su su meno 25 non perdete il ritmo enoppi 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 passo ciao mi fiega se rifallo allora mi servono quei cosi lì 16 me ne mancano minchia 16 sono ancora fino a domani dai no dai 7 no barba dobbiamo stopparlo è nostro dovere in che senso grazie del follow guarda che puoi farlo pure sicuro lo posso fare anch'io what the fucking fuck wow 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 Julius Julius con le 25 sub gift what Julius muro di cuore per Julius purcudigal thank you so much e flaschi con i sette mesi mister mosmaverick con i cheer stop al covid oh cazzo love you Julius thank you grazie davvero per il il giga supporto il giga supporto voi pensate che avevamo anche pensato con randall e piuma cifra tonda grazie Julius davvero avevamo pensato con randall e piuma di dire che avevamo bisogno di di un megafondo per pagare l'operazione a randall randall si sarebbe anche prestato cioè la prima cosa che abbiamo pensato io e piuma appena randall fa sono in ospedale mi devono operare io e piuma abbiamo fatto un finto copypasta nel gruppo dei mod ciao ragazzi è successa una roba terrificante c'è bisogno dell'aiuto di tutti ops abbiamo sbagliato gruppo grazie grazie frenzy ok we did it ecco il bollo ragazzi damn ciuff ciuff thank you so much per il supporto grazie mille barba con i cir ehi ehi anche signorine oh vi siete era un po' che non com'è come ci si sente da questo lato ci si sente bene grazie ragazzi allora grazie step ok allora quindi ora noi basterà fare ora vi spiego bastava chiedere ma a me scoccia un botto chiedere io lo so che quando chiedo non sempre ma comunque però è brutto chiedere cioè io dico povero randolone povero randolone dai 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 che sta bene cioè nel senso la prima operazione è andata bene se è andata bene la prima spero che andrà bene anche la seconda allora questo cosa cazzo è giunzione per condotte a croce no non è quello che serve a noi oh sì senti io faccio il commerciale da vent'anni a volte mi sento un mendicante no no lo so lo so però ma infatti se vi ricordate all'inizio facevo molto più sellout eccetera però non lo so dopo un po' dici cazzo allora weibo con le 5 sub gift thank you so much weibo grazie Paco per i cheer Antoine con i cheer forza randolone pop shop che sema ha bisogno del tuo loot app randolone guarisci presto grazie ragazzi abbiamo salvato la terra raga è incredibile ce l'abbiamo fatta ce l'avete fatta a salvare la terra è bastato così poco siete i migliori allora vediamo se funziona dai entra please dai eh no non lo stavo mettendo nel buco giusto death for she said eh eh merda l'urkerini minchia una volta avevate la canzone dedicata adesso non posso più mettere la fottuto di MCA cazzo perché non entra qua raga c'è arriva fino qui e poi non mi si infila really che cazzo mi significa sta roba ah perché c'è sto palo di merda ma guarda te e vabbè lo faccio più avanti di uno non lo devo rifare più avanti di uno bella oca con i quindici e mia con i cir thank you thank you eh pietro che la regala a mago thank you thank you ah vediamo se entra ma porca puttana ma se lei che rob chi eh no perché guarda dove cazzo lo fa passare il gioco il tubo ma porca puttana ma sarai stronzo ah no però aspetta non l'ho messo uno più avanti l'ho rimesso uguale allora facciamo cosa fa un postino ad una festa si imbuca oh aspetta qui partono tre cavi no minchia mi incasino con i cavi regala fine sono un drogato Ginnart aspettate raga è un momento catartico ora sta meglio randolone ora sta da dio randolone eh perché vedi siamo all'ultub ah vediamo se così è più spostato niente non ce la faccio a metterlo di uno più indietro ma buttana la miseria bella filtro con i 25 welcome back thank you ora è per forza più indietro ok vediamo se work così ma che cazzo di tu niente c'è c'è il oh però aspetta fa sta curva marcia che forse va bene cosa cazzo sto vedendo oh shit va bene ah beh i tubi funzionano col culo però cioè quell'altro non devo fare un casino questo qui guarda cosa è combinato e si riempiono pure cioè in verticale va il suo tubo ma con che pressione che arrivano no 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 non regge non regge o forse si 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 bella 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 regala veccio si teoricamente finchè qui è pieno ok ora dobbiamo smizzare anche il carbone come si smizzava il nastro rega che non mi ricordo ah vuoi dire phoenix che è per quella discesa lì quindi non c'è modo che non ci sia pressione si forse ha senso separatore di nastri ok eccolo qua very good eh questo non entrerà mai e invece ok ok perché qui non sta andando rega però perché ci mette tanto a ah perché ne ha caricati 100 e poi ci mette tanto a gremarli quindi comunque forse con un nastro solo riesco tranquillamente a farlo perché è lento a bruciarli dai fammi andare a vedere ma sta andando ah no al cazzo ok mica rega abbiamo corrente per tutto il pianeta cioè abbiamo fottutamente corrente per tutto il pianeta si guarda che roba vado a spegnere le altre vediamo com'è andiamo a spegnere questo l'inquinamento a mille perfetto perché non ho io non posso tirarlo giù dal generale scusa ok vediamo beh capacità 225 quindi in realtà ho ancora tanto margine ho il 30% di margine 40 siamo appostissimo rega al momento stiamo appostissimo con l'energia allora aspetta però allora a questo punto possiamo anche riaccendere quella e facciamo i ticket ma i ticket non servono un cazzo però mi sento a casa con tutto l'inquinamento esatta lascia che quelle col biocarburante si svuotino no le lascio così in modo che se serve al volo le accendo e hanno già la roba dentro overclockale no adesso come prima cosa ci andiamo a riprendere il nostro sparacosi no quelle non mi servono per croccarle no sono contento che non c'è stata da impazzire con l'acqua faccio come su cs col coltello guarda cazzo mi manca cs shit no johnny leave me be via via ok mio ok quindi allora non ci servono due pompe d'acqua tutto funziona bene quello sta diggando la minerale va bene possiamo andare a vedere il resto secondo me hanno preso la stessa animazione si è molto simile effettivamente eh effettivamente è vero Tana forse le stack di materiali con i ticket sono comodi perché se magari ti serve un materiale al volo non devi produrlo lo compri vuoi prendere il mezzo eh lo so effettivamente è ma il mezzo è veloce raga perché a me sembra un muletto cioè a me sembra un fottutissimo muletto tutto a posto tutto a posto no cazzo ah i ticket diventano sempre no no mi sono ok ero stuccatissimo mi sono destuccato mi stavo lanciando nel nulla vabbè vediamo quanto costano poi e intanto facciamo questo è quello con eh vedi ce l'ho anche ferma la produzione di questa tanto che ne ho dai fai il bravo perché non si alza? ok vedi però mi sa sul culo che mi dice spazio occupato ma non è vero ma come minerali insufficienti? cosa mi manca? ma va ok e via di ticket che cosa? che cosa Luca? e no roba troppo vecchia su youtube manca raga cioè non non tutto ma alcune cose sono andate perdute negli anni allora vediamo qui l'avevo fatto si ah no però mi chiedeva robe troppo che non abbiamo idea di che cazzo siano allora quando abbiamo sbloccato i tire abbiamo sbloccato quelle robe di supporto per condotto e ancora uno ah credo che sia quello per farlo estrar in aria ok che lo build in automatico sembratore estratore d'acqua abbiamo fatto tutto qui abbiamo fatto tutto logistica non siamo persone logiche non ci serve organizzazione siamo perfettamente organizzati a poco tempo si è uscita per condotte il buffer perché avrei dovuto utilizzarlo in ciò che ho fatto? se vuoi spegnere le pompe? stiamo a cercare la canzone di lurker era ciao si chiamava ciao la canzone di lurker google per sicurezza in caso che finisce l'acqua ma scusami l'acqua si prosciuga non me lo dire no non ci credo che si prosciuga il lago sarà infinito mettaforma di atterraggio che è questo lavoro che ancora devo fare ciao ok allora qui abbiamo roba da riserciare polvere da sparo eh vedi metallo sconosciuto sicuramente sarà quello che mi fa fare la spada poi esatto merkei cremont trasporto veicolare un trattore la stazione del camion dei camion dispone di un inventario 25 slot e di un banco di lavoro incorporato può essere automatizzato per caricare e scaricare le merci alla stazione dei camion what dispone di un banco di lavoro incorporato può essere automatizzato per caricare e scaricare le merci alle stazioni dei camion però mi sa che ancora non serve come lo mandi a prendere la legna non credo produzione di acciaio ok questo invece potrebbe essere good fonde due risorse lingotti di lega quindi questo farà ok lingotto d'acciaio ferro e carbone ok minchia quindi il carbone lo devo anche bancare il carbone lo devo anche bancare quindi vuol dire che scitteroni mi puoi fare registrare un percorso e mi ripeterà sempre quello vabbè poi lo valutiamo allora quello eh mi tocca fare una porcheria nooo dai perché non ci stai che vita di merda perché non me lo fa mettere perché non hai cose eh no devo crearmi un punto dove recuperare del carbone perché altrimenti eh però così non mi ci passano i cavi mi sa no conoscendo il gioco non me lo fa mettere qua infatti bastardo bastardo però aspetta se io uh ideona fermi tutti froggers allora questo entra qui cazzo ah no mi mancano i cosi forse ce la faceva anche mi mancano le cose dai dove sono non ho visto un milione prima ok thank you ma fermi ragazzi sono ispirato sono ispirato no ok così non ci entra dai non fare il merda ma spazio occupato da che dai datevi il bacino perché non si danno il bacino ma what cosa vuol dire spazio occupato ah l'ho girato storto ah cazzo l'ingresso che coglione ah ingresso allora ingresso esce ingresso esce eh no devo fare un altro ok ah non è che aspetta magari non serviva a fare tutto sto bordello e bastava fare così no perché non ma se io provo a farlo curvare no non c'è modo di dirgli dai allargati e farcelo stare no eh ok dai fai il bravo dai dai oh così va per forza è una merda ma va per forza ok allora poi quello per farlo andare verticalmente come si chiamava raga era qual era? non era questo? no non è il nastro che fa così era l'ascensore? l'ho rotta fino alla... ah sì così ma come cazzo l'hai buildato? allora aspetta così ok quindi questo fa così questo fa così questo fa così allora questo porta su quello porta su quello porta su e poi da quello entra dentro funziona? allora lo scopriremo quando vediamo del carbone che arriva da là yeah oh signor 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 oh signor e voi direte ma perché tutto questo? perché almeno visto che il carbone tende a rimanere fermo sui sui rulli visto che il carbone tende a rimanere fermo sui rulli avrò sempre 3-4 container pieni di carbone che visto che abbiamo visto che servono per l'acciaio ne scollego 2 e faccio comunque quello che devo fare easy clapperino cioè basta che praticamente poi io prendo scollego i due centrali collego questo all'ultimo tanto questo si può alzare e via secondo me guardano tutto l'altro ci sono migliaia di cazzetti in base come a vedere dovevi mettere il nastro principale allora cioè no avrei dovuto metterlo prima col senno di poi si solo che ho detto minchia no smontare tutto no viene un po' una cagata ma in realtà non è venuta neanche tanto una cagata però fate questo che si giochi qui se tu sai le cose è come quando abbiamo giocato le prime run a oxygen scopri le cose mentre le fai e quindi le aggiusti quando poi lo rifai sai già come farle ti viene bene allora go minchia allora mille di rame e 300 di cose dovremmo averceli 1700 di rame mi servono che me ne manca uno sputo proprio sure black con i 42 thank you thank you ma friend grazie di supporto e welcome back minchia 150 di questi porca puttana questi che cazzo sono telaio modulare si fanno con le barre madonna mia si fa tutto quel cazzo di macchinario là che sbatta o lumache due lumache abbiamo fatto due boost forse qua c'erano ok tre quattro poggers ok adesso mega boost questa qua raga mega boost questo e vediamo cosa succede se se facciamo così però non gli sta dietro le vittime ah perché adesso abbiamo staccato uno delle viti noi però scusami se io invece che fare un'altra cosa delle viti eh non ci stiamo dentro con la corrente così però troppo figa quanto consuma quando li boosti cioè troppissimo ut ah anche con un porca puttana ecco un boost solo regge di più no beh già un boost solo è meno di niente però scusami io come faccio a capire stella perché io vedo che il il carbone ne abbiamo di più di quello che usiamo a me sembra che anche l'acqua sia perma pieno cioè non riusciamo a questo punto a fare altri altri generatori a carbone è e il problema minchiamo è portargli qua la roba poi eh i generatori consumano 45 di acqua io nel tubo ne ho 300 quindi ce ne sono 6 e mi avanza era normale il carbone però vabbè è palese che il carbone sia in subito guarda non vorrei dirti ma secondo me un container è già pieno eh devo vedere quello sopra eh non ce la farò mai a vederlo come faccio a vedere quello sopra regà non è pieno però vabbè si riempie ciao rompi secondo me va sfruttata sta roba si si go let's do this guarda ne faccio ancora due non ne faccio tre per questione di spazio però ne faccio due oh cosa mi mancano i rotori che palle solo uno vabbè ma già uno è basta cioè già uno è tanta roba ah questo cosa che sta facendo ma non me ne frega un cazzo di queste dobbiamo farmi micchie te là i modulari si fanno con i i rotori intanto qui devono arrivare le barre dall'altra parte fermi che dobbiamo riswappare qui che sennò succede il casino minchia sta macchina qui è quella che più mi sta sul culo per lo sbatta che ci dobbiamo fare dietro ah guarda che c'è modo di prenderla ok ok non si può eh no eh no i cose non si possono impilare purtroppo eh no se no era beh ci sta dai buona cagata impilare i due due generatori elettrici cavi cavi neri ce li abbiamo sii tipo questo tipo questo secondo me è fermo perché è pieno il magazzino porca puttana è pieno il magazzino e quindi possiamo fare una roba smart gli facciamo fare viti e vediamo alla carlona di collegarlo qua che è quello che faceva prima praticamente e qui abbiamo comunque un contenitore pieno di metal partono le viti vero? viti? ah no perché ha bisogno per le viti ha bisogno di cazzo no non lo posso più fare perché e niente allora continuiamo a buildare questo vaffanculo no aspetta però si si se no devo rifare la corrente e tutto no 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 tanto questi qua prima o poi servono ancora già lo so già lo so e poi dopo qui facciamo un container e sistemo eh forse conviene fare bar conviene fare le barre si che quelle ne mancano sempre e allora mi tocca per forza far l'ora ok ok 1 e 1-2 ah scusa qui quanti ticket c'amo 6 ticket poggers siamo ricchi we rich as fuck ah la la non c'è più cosa dovevo fare regà ciao fuji come non sono collegati i verticali a quello no oddale come cazzo si sono ma che cazzo ma come li ha messi non sono stato io regà assolutamente colpa del gioco ok ciao Anna dormi bene no no ancora sabato eeeh pam 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 qui cos'è che li sto facendo fare mo i rotori ok e perché è fermo per le viti viti di merda proviamo a bussare le viti vediamo cosa succede ok pare che tutto tenga devo prendere i cavi neri che non ho preso ciao Nia devo prendere i cavi neri heartbreaker non posso averli finiti sono qualche ma ne avevo un milione li ho droppati in un container prima regà quale questo per forza cazzo regà prima ho droppato dei cavi neri in un container non li troverò mai più ero pieno di cavi neri regà pienissimo dove sono? persi per sempre facciamo finta che non sono mai esistiti dove minchia li ho buttati? chat help me zona rame vado johnny vado mi fido ludus è uno che zitto zitto lurca lurca ma è sempre attento ludus cosa cazzo dici ludus eccoli bravo ludus cazzo ormai basta ormai basta siamo presi bene con i questa roba e la spammiamo come spazio non disponibile ma che cazzo mi stai dicendo ma che cazzo mi stai dicendo perché mai questa cosa non funziona qua? ma va che troll non posso fare questo? non posso fare questa la cosa di sonic vabbè ne facciamo due dai ho preso i cavi per fare cosa? per fare sta minchia di centrale ok ok allora qui dobbiamo portargli un cavo così che dove cazzo lo facciamo passare? eh questo sarà oh lo prendiamo da lì e una volta che si blocca continua a fare il no però perché poi mi toglie il cazzo cos'è il terzo materiale raga? ah mi serve il coso vabbè a parte che non me lo faceva buildare ma in ogni caso non ci arriva credo aspetta però fermi 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 però devo stare anche all'occhio perché c'è il il tubo dell'acqua eh ma c'è un altro a me no qui basta fare così devo fare madonna che delirio ok un altro separatore di nastri lì tipo così è questo che gli entra dentro ok per il carbone abbiamo fixato ora c'è da ridere con l'acqua l'acqua ha tipo il separatore giunzora si può prendere la contatto per suddividere in quattro parti easy clap perché non va 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 materiali sufficienti rame 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 no dai ok ok ce la fa come spazio occupato da chi che minchia è che mi occupa lo spazio mamma che tubo mamma mia giù per il tubo amici giù per il tubo attaccati Johnny attaccati do this for me yes che cosa brutta che imbecille che sei un palo please oh teoricamente vediamo se si sta riempendo boom raga super easy guarda la produzione come schizzata guarda la produzione come schizzata andiamo a bustare andiamo a bustare guarda le viti come vanno dentro tutte bustate impasticcate non saltare non saltare non saltare non è saltata good eh guarda quanto spazio abbiamo presto presto un altro un'altra piccola anfetamina alla mia macchinetta tieni mia cara pastiglietta ah così abbiamo ancora spazio eh però stiamo stiamo schisci direi però vedi io posso bustare anche questa queste conviene bustarle perché le risorse sono easy da recuperare consuma più carbone eh ma non c'è problema cioè regà il carbone te ne arriva a quintali il problema sono le viti minchia veramente il problema rimangono le viti no aspetta però le viti dovrebbero entrare bene ora ma che vado tolgo il busto alla cosa e lo metto doppio alle viti minchia è vero le viti non ne arrivano abbastanza porca puttana via non ci serve tutta questa corrente porca vai come è il problema che c'è il carrello lento se carichi il container delle viti a mano in che senso ah tu dici prendo per un attimino me ne crafto io un po' e gli do una botta vediamo tanto io ce l'ho delle viti addosso e vedi in realtà va di poco in negativo perché scende di due e sale di uno scende di due e sale di uno fai 80 vite al minuto 80 vite al minuto giusto come faccio io a vedere le proprietà del carrello 60 al minuto 120 al minuto quindi devo fare mi faccio minchia il carrello nuovo fiammante rega va che roba si forse adesso questo è troppo pimpato si cioè teoricamente questo andando a full regime me ne farebbe 10 al minuto di sti cosi forse non serve nemmeno così così bustato lo so avrei bisogno di un altro coso per per fare altre altre viti rega è che ce l'avevo solo che è un po' un delirio rifarlo sto pensando eh e no l'unica è rimettere l'altra cosa qua davanti e fare barre intuviti e ributtarle dentro ancora anche perché poi dopo qui noi dovremo fare il come si dice quello che c'è da fare qui dopo sono i telai modulari che servono minchia le barre che va bene ce le abbiamo ma servono le lamere di ferro rinforzate però forse conviene farlo da un'altra parte qui lo lascio a fare lamiere e faccio un altro coso che mi crafta solo i telai sbagliato sbagliato cosa stavo craftando i rotori e si conviene fare un altro di sti robie perlomeno abbiamo fixato l'energia che è tanta roba cioè se vi ricordate tra ieri oggi c'era ogni due minuti tirar giù quella cazza di manovella adesso qui guarda che bella la riga e ripeto a sto punto visto che mi avanza l'alziamo ancora un po' la sticella stasera abbiamo fatto progress stasera abbiamo fottutamente fatto massa progress ve l'ho detto che tiravamo dritti ve l'ho detto voi no no siamo riusciti anche a morire stasera più e più volte sicuro ti basti il carbone ma il carbone minchia guarda adesso andiamo a rivedere i container il carbone come non basta l'acqua raga io vedo i tubi sempre pieni l'estratore ne estratore 120 al minuto però scusami questo quanto ne usa cioè come faccio a capire aspetta ah questo ne usa 43 al minuto quello ne fa 120 io ne ho 4 180 vabbè ma che vada regà vado là metto un'altra pompa metto un'altra pompa d'acqua e collego i primi due tubi ed è finita c'è una cagata come 160 45 45 90 180 mi piace il gioco sì dai sì 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 bella roba con i 20 grazie a te Johnny per il supporto beh va bene ci fermiamo qui domani sera regà ricordate secondo me ci stiamo dentro ancora per il momento altrimenti avrei già avuto problemi in un'ora però tanto alla fine non mi costa un cazzo metto un'altra pompa d'acqua quanto costa l'energia 20 usa un cazzo beh mica tanto un cazzo e quindi domani sera quando startiamo ricordatevi di fare subito quello poi produciamo che roba di con gli altri ok dobbiamo fare quello e l'altra l'altro assemblatore regà come cazzo si chiama e poi dobbiamo stampare i coupon abbiamo 8 mi stampo adesso abbiamo 11 coupon che volendo per non impazzire che volendo per non impazzire effettivamente potremmo comprarci 50 telai easy con 4 coupon e via il muletto è un muletto ripeto non ne vedo l'utilità ci compriamo le foundation nere che sono fighissime fondamenta di vetro what il muletto di di blackstead del or ah è buono sono ok le scale le scale minchia dovrei sbloccare quelle che costano di più eh adesso abbiamo sbloccato la scala a pioli forse la scala a pioli potrebbe essere tanta roba va bene domani ci pensiamo che fa una cestuccata sotto la nostra piattaforma ancora dove no non c'è più ah con le piattaforme in vetro minchia no già abbiamo guarda che bello cioè ho la base con con i fiorellini che mi poppano e ricordatevi di andare giù con la motosega e tagliare quest'albero domani cazzo tagliarlo distruggerlo forever va bene signorine e signorini